buongiorno a tutti oggi siamo qui per parlare di quella che è la gestione colore nella stampa ossia cosa bisognerebbe fare per ottenere una buona qualità di stampa dal punto di vista del colore appunto una premessa in questo corso parleremo quasi sostanzialmente di quello che riguarda il colore in una stampa in realtà per ottenere una buona stampa oltre che verificare la questione del colore venirebbe considerare la risoluzione in cui andiamo a stampare le sfumature quindi degradazioni di colore che riusciamo a ottenere che dipende dal tipo di stampa e dal tipo di inchiostri che noi andremo a utilizzare la finitura quindi su che tipo di carta andremo a stampare e la durata in quanto per epson la durata è una questione fondamentale per una stampa qual è il problema della gestione del colore nel nella stampa in realtà la problematica del colore riguarda tutte le periferiche quindi non solo la stampante o il monitor la gestione del colore prende tutta la catena che permette di ottenere poi una stampa quindi dallo scatto o dalla scansione la visualizzazione sul monitor fino alla stampa finale il problema è deriva proprio dal fatto che ogni periferica vede il colore a proprio modo dipendentemente da come costruita da come è stata pensata da chi la prodotta e via dicendo per cui non c'è niente di strano o di errato se noi normalmente otteniamo colori diversi da periferiche diverse l'idea della gestione del colore è creare qualcosa che eviti questo problema facendo in modo da ottenere gli stessi colori su tutte le periferiche incominciamo a capire perché ogni periferica vede i colori a proprio modo questo dipende da come è definito un colore nel mondo in teleinformatica sostanzialmente il colore è definito da tre numeri i valori rgb quindi rosso verde blu i valori rgb definiscono un colore nell'informatica qual è il problema che quando io do questi tre questa terna di valori a un monitor lui mi fa vedere un determinato colore quando prende sposto il file su un altro monitor lui legge questi tre valori e ne associa un colore diverso perché costruttivamente fatto in modo diverso quello che noi vogliamo ottenere appunto è avere qualcosa che dica alle diverse periferiche di interpretare non i numeri quindi non di associare numeri dei colori diversi ma di ottenere gli stessi colori per fare questo occorre quello che si chiama profili cc che non è nient'altro che un file tino che permette di dire sostanzialmente alle periferiche come cambiare i numeri per ottenere i colori l'idea fondamentale che c'è sotto è questa sostanzialmente visto che dando la stessa terna di numeri i colori interpretati dalle periferiche sono diverse l'idea è cambiare questa terna quando si passa da una periferica in altra in modo che quando viene letto dalla periferica questo dia lo stesso colore su tutte le periferiche quindi si passa da stessi numeri colori diversi a cambiamo i numeri per ottenere gli stessi colori chi cambia i numeri è appunto il profilo cc